beccato con emma marrone stefano de martino e belen rodriguez gossip e complicazioni sentimentali il mondo dello spettacolo italiano è di nuovo sotto i riflettori e questa volta il protagonista indiscusso è stefano de martino alessandro rosica investigatore sociale molto noto ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico con una rivelazione sorprendente stefano de martino sarebbe stato sorpreso con emma marrone da belen rodriguez questa indiscrezione divulgata da rosica sul suo canale instagram ha scatenato un bespaio di reazioni e supposizioni sorprendentemente belen rodriguez ha scelto di mantenere un silenzio significativo senza commentare né confermare la notizia la sua assenza di dichiarazioni ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico e ha dato vita a nuove domande sullo stato delle relazioni nel mondo dello spettacolo italiano il noto esperto di gossip non è nuovo a svelare segreti piccanti avendo precedentemente dichiarato un presunto flirt tra stefano de martino e antonella fiordelisi tuttavia questa volta l'aggiunta del nome di emma marrone porta una ventata di freschezza a una storia già intrigante rosica sostiene di possedere prove concrete di incontri segreti tra de martino e marrone sottolineando l'astuzia con cui l'ex marito di belen organizza tali appuntamenti per evitare sospetti il modus operandi di stefano de martino sembra essere il medesimo in ogni situazione si affida ad amici fidati per accompagnare le donne direttamente a casa sua e poi cambia auto per sfuggire a occhi indiscreti rosica con la sua abilità investigativa ha anche svelato che de martino avrebbe ripreso a frequentare emma marrone alcuni anni dopo la fine ufficiale della loro relazione questo particolare ha innescato un pesante litigio tra la cantante e belen rodriguez aggiungendo un nuovo strato di complessità a una situazione già intricata inoltre è importante sottolineare che al momento di questo presunto ritorno di fiamma con emma marrone stefano de martino era già nuovamente legato sentimentalmente a belen rodriguez con la quale aveva avuto il loro primogenito santiago questa nuova rivelazione di rosica getta luce su relazioni intricate gelosie e colpi di scena nel mondo dello spettacolo italiano creando un susseguirsi di eventi che tiene il pubblico con il fiato sospeso resta da vedere come evolverà questa trama appassionante e quali saranno le reazioni dei diretti interessati di fronte a queste affermazioni esplosive a queste affermazioni esplosive